Allora, vedo che è già collegato con noi Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, esponente del Partito Democratico via Skype. Dove si trova Orlando? Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, mi trovo a casa, a La Spezia, in auto isolamento. Ok, ma è ancora in auto isolamento dopo il fatto che Zingaretti è stato positivo? Sì, 14 giorni passano sabato, quindi siamo in attesa. Come sta però? Sta bene mi pare? Sì, sì, sto bene, non ho avuto sintomi, mi sono rimesso alle indicazioni dell'autorità sanitaria e abbiamo seguito scrupolosamente quelle indicazioni. Ok, Zingaretti l'ha sentito, come sta? Sta meglio? Sì, lo sento quotidianamente, anche più volte al giorno sta meglio. Ho affrontato una terapia che ha dato dei risultati positivi, credo che sarà pienamente in azione nelle prossime giornate. Ok.